Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento con i mercati. La settimana borsistica continua ad essere piuttosto incerta. Alle percentuali quasi neutre di ieri si aggiungono infatti quelle di oggi. Uno dei fattori è rappresentato da alcuni dati macro poco esaltanti, come quello sulla domanda cinese, oltre al perdurare dell'allarme sul debito pubblico degli Stati Uniti. Ricordiamo che in Europa gli stini si stanno muovendo nel pieno degli annunci dei conti di bilancio trimestrale, mentre negli USA le pubblicazioni delle trimestrali stanno volgendo al termine. La percentuale finale del Futsimib, come dicevamo, è timida, ma va considerato che i ribassi di metà seduta erano notevolmente più ampli prima del recupero del primo pomeriggio. Una situazione simile è andata in scena anche a Francoforte, anche qui variazione minima e grafico a due facce. Negli Stati Uniti sempre protagoniste le banche regionali e dando uno sguardo agli indici troviamo il Dow Jones poco sotto la parità, passivo invece maggiore per il Nasdaq che si aggira intorno al mezzo punto percentuale di ribasso. A Piazza Fari Fineco finisce in coda il Futsimib con oltre cinque punti e mezzo di passivo, nonostante le trimestrali favorevoli. Rimanendo nello stesso comparto, Monte dei Paschi, dopo due sedute favorevoli e l'ottima partenza, finisce tra i peggiori, superando il meno due. Dopo il rally delle ultime due sedute perde quota Prismian, azzerando tutti i recenti guadagni, segno meno anche per Saipem, in scia al calo del greggio e Campari. Spiccano le performance di Banco BPM che guarda tutti dall'alto con un balzo superiore ai 7,5 punti e Banca MPS poco sotto al 4%. Entrambi gli istituti di credito beneficiano dei risultati trimestrali. Gli altri risultati sono piuttosto contenuti e se escludiamo Unipol sopra al più 1, gli altri rialzi, nello specifico quelli registrati da Stellantis e Poste italiane, sono frazionali. Decisamente più marcati i ribassi che stanno andando in scena sul Forex. Euro-dollaro, dopo la seduta piatta di ieri, sta perdendo quasi mezzo punto percentuale, riportandosi sotto a 1,10. Analoghi le percentuali di calo per euro-sterlina sotto quota 0,86 euro-yen che però rimane ancorato a 148. Ed ora, prima di concludere la panoramica dei principali indici internazionali di Giacomo Moie. Salve a tutti per le interviste di Traderlink, ospite di oggi Giacomo Moie, analista tecnico. Daremo con lui uno sguardo ad un mercato che mi accennavi ormai guarda oltre le trimestrali. Non aggiungo altro, a te la parola. Ben trovata Rossana. Siamo ancora nel pieno degli annunci di trimestrali in Europa, invariato il livello medio dei risultati, mentre si avviano la conclusione delle trimestrali negli Stati Uniti in cui la crescita media degli utili è stata negativa, anche se una negatività minore delle attese. I risultati forti del mercato del lavoro di venerdì ha rimosso lo scenario di una recessione imminente. Vero è che nei mesi a venire bisognerà vedere quanto l'accesso al credit sia più difficile alla luce delle crisi bancarie già viste e potenzialmente ancora dal divenire. domani in America e in Cina, venerdì in Europa i nuovi dati sull'inflazione. Segnatamente la condizione tecnica di piazza affari, qui in osservazione il Fuzzimib in grafico settimanale, oggi abbiamo accolto in maniera diversa anche all'interno dello stesso comparto bancario le trimestrali da un punto di vista tecnico, quindi un comparto bancario differenziato al suo interno, possiamo dire che tuttavia a livello di indice, dopo che in aprile è stato respinto nel suo movimento ascendente l'indice d'aria 28 mila punti, pur computando l'1,36% di stacco dividendi che ha fatto scivolare in modo tecnico a ribasso il nostro indice, a questo punto manteniamo una view di cautela sul nostro indice nel quadro più ampio che reduce, secondo i nostri modelli, da un disimpegno dal posizionamento sia strategico che tattico rialzista sull'indice ed avremo bisogno di una nuova forza sopra i 28 mila punti indice per riaccreditare interesse rialzista di respiro più ampio sul nostro indice. Nel brevissimo, passando in osservazione del grafico giornaliero del Fuzzi Mib, venerdì scorso l'abbrivio rialzista ha scartato a rialzo una fascia grafica pregna di significato operativo secondo i nostri modelli che tra 26 mila e 900 e 27 mila 300 punti indice disegna a questo punto lo spartiacque sul nostro indice, questa è la stessa fascia grafica che si propone dunque arbitro delle sorti direzionali di breve, per cui una incapacità di mantenersi al di sopra e anzi un ritorno in ripensamento al di sotto di area 26 mila 980, 27 mila punti indice darebbe il LAN secondo i nostri modelli ad una fase più ampia di debolezza. Per il DAX passando sugli indici internazionali, struttura grafica recente un po' diversa rispetto al nostro Fuzzi Mib ma in comune c'è un test dell'area dei massimi di inizio 2022 che in questa fase inizia ad avere respingimento della proposta rialzista sull'indice tedesco per cui anche qui 15.8, 15.870 fascia supportiva il cedimento della quale sarebbe la seconda volta in pochi giorni aprirebbe anche qui ad un'aspettativa di debolezza più significativa. Infine un breve cenno al S&P 500, anch'esso interessato venerdì dall'abrivo rialzista superamento dei livelli dinamici di periodo bene tra 4.110 e 425 fascia grafica arbitro delle sorti direzionali dell'S&P 500, un ritorno al di sotto in chiusura di giornata determinerebbe anche qui l'apertura di una fase di debolezza importante. Perfetto, io ti ringrazio per tutte quante le indicazioni, rimando con te l'appuntamento alla prossima settimana. A voi. Grazie Rossane e Giacomo, grazie a voi per averci seguito e continuate a rimanere aggiornati con i nostri contenuti sui nostri canali YouTube e sulle piattaforme Traderlink e Cloud. Arrivederci, a domani. Grazie.